Il bentornato negli studi Temporadio, oggi lo diamo alla sindaca di Padenga sul Garda, di nuovo con noi Patrizia Vanzini, bentornata tra noi sindaca. Grazie, buona giornata a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo che i telefoni sono sempre aperti, il numero è lo 037663 1709, il numero per sms e i messaggi whatsapp è il 338 17 19 105 e poi ancora siamo in diretta streaming sulla pagina facebook di Il Gazzettino Nuovo e Temporadio e su youtube Temporadio Live 16 febbraio. Dunque, allora cominciamo col parlare di bilancio, complimenti perché la norma mi pare che dica che deve essere approvato entro marzo, voi l'avete addirittura approvato entro il 30 gennaio. Sì, questa è stata la prima scadenza, poi come spesso succede, proprio anche in funzione delle difficoltà che spesso ci hanno nei comuni, è stata prorogata il 28 febbraio e ultimamente anche al 31 marzo, noi l'abbiamo invece approvato il 30 gennaio, quindi ampiamente nei termini. Chiaramente approvare il bilancio di previsione a gennaio significa fare una programmazione per l'anno e quindi aiutare anche nelle scelte che poi dal punto di vista dei vari uffici, dai lavori pubblici al sociale, alla scuola, all'istruzione, si riesce quindi a prendere delle decisioni mirate e programmate. Il nostro bilancio è un bilancio che pareggia quasi circa 7 milioni di euro e sostanzialmente vede una contrazione costante della spesa corrente, una contrazione costante della spesa corrente però che non si riferisce ad alcune aree nevralgiche e sicuramente strategiche che abbiamo sempre considerato strategiche, che sono appunto quelle che si riferiscono in particolar modo al welfare e quindi alle azioni sulla popolazione più fragile, quindi i classici servizi sociali. In questo campo noi non abbiamo mai ritenuto assolutamente di dover tagliare perché purtroppo a fronte di un bisogno invece sempre crescente, sia riferito alla terza età ma anche all'area minori, abbiamo sempre cercato di mantenere un livello di risorse degno di un paese progredito. Noi abbiamo delle voci di spesa abbastanza elevate, mi riferisco in particolare a tutta l'area delle assistenze ad personam nelle scuole, mi riferisco al sostegno alla nostra scuola materna paritaria e quindi a voci di spesa che noi garantiamo ogni anno perché riteniamo che sostenere la popolazione anche dei minori significa in qualche modo garantire servizi e qualità dell'offerta. C'è poi tutta la voce di spesa che si riferisce alla terza età e anche qui noi abbiamo davvero tante azioni che vanno a sostenere e la famiglia che ha al suo interno l'anziano e l'anziano stesso che in qualche modo ha bisogno di servizi efficienti, rapidi e soprattutto di supporto alle fragilità. Sì, dunque lei sta parlando di Padenge, tra l'altro complimenti perché effettivamente Padenge è particolarmente attenta proprio all'aspetto sociale. Una domanda più generale sul lago, anche visto che tra l'altro lei poi adesso amplierà gli orizzonti insomma con la regione. Speriamo. C'è stato un report recentemente proprio sul lago di Garda in generale, in senso lato, soprattutto però quello della sponda occidentale, quella lombarda. È molto un luogo per anziani e poco un luogo per giovani, tant'è vero che hanno deciso di avviare alcune iniziative. Non c'è questo rischio di diventare un po' una grossa casa di riposo, il lago di Garda? No, io non credo. Vabbè, è chiaro che il clima in qualche modo che caratterizza questa area ha favorito la realizzazione magari soprattutto in certe località di spazi proprio più dedicati alla terza età. Però, almeno parlando di Padenge, noi parliamo del basso Garda e conosciamo bene la capacità di attrazione che ha la nostra vicina Desenzano, ad esempio, piuttosto che Sirmione, e la stessa Padenge, anche con il recente lancio dell'area del Lido di Padenge, ha visto proprio invece convergere molti giovani. Molti giovani. No, ma infatti confermiamo che c'è in atto proprio questo aumento dell'offerta proprio. Esatto, quindi... E poi, ecco, un'altra caratteristica che si è radicata negli ultimi anni è proprio anche la differenziazione dell'offerta turistica proprio Padenghina che ha visto utilizzare in buona parte le seconde case che da sempre, purtroppo, mio malgrado lo dico perché negli anni passati avrebbe potuto avere una destinazione diversa il nostro territorio, però noi abbiamo poche strutture ricettive e molte seconde case e quindi queste seconde case negli anni, in questi ultimi anni, soprattutto, sono diventate, non tutte ovviamente, case ed appartamenti per vacanze e bed and breakfast. Quindi diciamo che l'offerta ricettiva si è un po' arricchita e tutto sommato io non vedo negativamente, purché sia fatto secondo le regole e in maniera trasparente, non vedo negativamente questo sostanzialmente cambio di destinazione, perché piuttosto di avere lì una casa, una seconda casa chiusa magari per mesi, è preferibile metterla sul mercato turistico, ovviamente sempre con il dovuto rispetto della norma. Questo per chi non abita sul Garda è una cosa abbastanza incomprensibile, ma non è bello avere magari un vicino, una casa che resta chiusa per undici mesi e mezzo all'anno, aperta a quindici giorni, poi per il resto vedi questa cosa, queste tapparelle sempre chiuse e la sensazione di solitudine proprio che purtroppo si respira. Una cosa poi anche, si aumenta le difficoltà di gestione per esempio dei rifiuti, perché magari c'è qualcuno che viene a fine settimana e a fine settimana non c'è la raccolta del vetro, quindi voi come Comune di Padenga come andate incontro a questo? Beh, allora diciamo che effettivamente noi abbiamo una percentuale di differenziata che si attesta vicino al 70%, 68-69% mediamente, però raggiunge picchi più alti nei mesi invernali e si abbassa invece nei mesi estivi, proprio perché ovviamente c'è da parte del turista piuttosto, ecco, ad esempio questo cambio di destinazione delle seconde case aumenta il problema dei rifiuti, perché cambiando gestore con frequenza molto spesso chi arriva non ha la misura del calendario della raccolta dei rifiuti e quindi non fa in tempo ad impararlo che è già andato via e quindi in qualche modo noi abbiamo aperto l'isola ecologica in estate con orari più dilatati e anche la domenica, quindi in qualche modo favoriamo la consegna del rifiuto differenziato ovviamente e indifferenziato anche in questo caso all'isola per evitare l'abbandono dei rifiuti che però, ahimè, purtroppo si verificano più spesso in estate e in più adesso stiamo valutando un progetto un progetto di realizzazione di una seconda isola ecologica a fianco dell'isola ecologica principale però protetta quindi cosa significa un'isola chiusa dove chi accede per la consegna del rifiuto deve avere una sorta di password e soprattutto video sorvegliata questo per evitare che viventi invece un luogo di abbandono indiscriminato del rifiuto stesso è un progetto che stiamo evagliando in collaborazione con Garda 1 con l'azienda appunto che gestisce la raccolta e che potrebbe essere un'ulteriore soluzione un'ulteriore, diciamo, messaggio al fine di evitare proprio l'abbandono del rifiuto stesso però io torno a ribadire su questo sono sempre stata convinta che alla base di tutto ci debba essere la convinzione culturale della persona che deve agire in modo corretto Allora, grazie le leggo un messaggio poi torniamo a parlare di bilancio Patrizia è una brava persona innamorata del suo territorio brava grazie mi è piaciuto questo complimento che non è firmato non so chi l'abbia mandato però comunque grazie a chi l'ha mandato parlando di bilancio voi avete un avanzo anche sì come capita anche in altri comuni noi abbiamo un avanzo che purtroppo non possiamo impiegare è un avanzo consistente di oltre 4 milioni che negli anni si è accumulato e che di fatto è impossibile utilizzare per i vincoli di finanza pubblica che appunto lo Stato centrale ci impone una parte di questo bilancio nel rispetto dell'obiettivo di pareggio che appunto dobbiamo rispettare verrà forse in parte comunque ma in misura limitata impiegato all'approvazione del consuntivo che sarà ad aprile del bilancio consuntivo che sarà ad aprile questo ovviamente ci impedisce di fare degli investimenti quindi di fare un triennale delle opere pubbliche tanto per parlare in modo tecnico che possa in qualche modo essere come dire ricco di opere abbiamo quindi un triennale delle opere pubbliche che vede due opere sostanzialmente importanti una sicuramente verrà realizzata nel 2018 è l'Autorium ovvero che abbiamo preventivato costerà circa 580 mila euro e che verrà realizzato negli spazi recuperati dopo la ristrutturazione di piazza d'annunzio perché riteniamo che anche investire in cultura sia segno di un paese civile la cultura è tra l'altro un assessorato molto come dire vivace a Padenghe perché è in corso proprio in questi giorni la programmazione proprio della stagione estiva che vede un'offerta culturale variegata che non è solo per i turisti ma anche per i cittadini perché riteniamo ancora che gli obiettivi la sticella diciamo delle proposte debba essere elevata progressivamente benissimo fermiamoci un attimo con Patrizia Vanzini prima cittadina di Padenghe ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte novità alla farmacia Giovannoli di Castiglione dell'Estiviere con una spesa di 30 euro sugli integratori sportivi subito per te una settimana gratuita in palestra appuntamenti per rimettersi in forma giovedì 22 febbraio alle 17 incontro con il dottor Spazzan medico estetico per le ultime novità dei trattamenti per ritrovare la bellezza farmacia Giovannoli a Castiglione dell'Estiviere via Mazzini telefono 0376 63 25 16 aperto da lunedì a sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 seguici su Facebook Officina Brigoni in ECO a Castiglione centro riparazioni veicoli di ogni genere all'Officina Brigoni si effettuano manutenzione autocarri auto anche in garanzia inoltre revisione vetture grue e piattaforme elevatrici Officina Brigoni rilascia patentini per trattori agricoli grue e piattaforme Officina Brigoni IVECO Castiglione dell'Estiviere via Campagnola 4 zona industriale Ovest telefono 0376 63 85 60 www.officinabrigoni.it per una serata in compagnia ristorante pizzeria Sorrento a Castiglione in questo periodo giro pizza con bibita e dolce a 12 euro a persona è gradita la prenotazione 0376 63 83 58 ristorante pizzeria Sorrento a Castiglione Viale Europa per una serata in compagnia vieni da noi prima cittadina di Padeng sul Garda una bella collezione di messaggi stavamo guardando sindaca quindi allora avanzo di bilancio vi ho parlato ma lei ha anche detto appunto avete comunque fatto la programmazione triennale per le opere pubbliche quindi parlava di cultura tra l'altro c'è un messaggio che dice bellissima la presentazione di Andreis per quanto riguarda la cultura quindi un auditorium in piazza d'annunzio che farete proprio questo ci sono altre cose anche per caso che avete progettazione per esempio c'era un messaggio ecco qua in cui chiedono adesso non lo trovo ma comunque chiede come procede la passeggiata al lago adesso appena la trovo glielo leggo precisamente c'è anche questo adesso è in corso un tratto quindi sono in corso i lavori per realizzare un tratto che dal porto pubblico arriva fino alla foce del rio Maguzzano sostanzialmente quasi vicino al confine con l'onato questo tratto è in corso e quindi per la fine di aprile forse anche prima sarà ultimato e quindi questo è un ulteriore tassello che si unisce a tutti i lavori che abbiamo fatto negli anni per rendere fruibile proprio la fascia al lago considerate che noi come paese siamo un po' svantaggiati perché abbiamo la provinciale la strada provinciale che divide la parte a monte dalla parte a lago e quindi la parte a lago sostanzialmente è una fascia di territorio non molto estesa che in qualche modo noi abbiamo voluto con questi interventi con questi investimenti rendere invece fruibile perché prima era pannaggio sostanzialmente solo delle seconde case parliamoci chiaro adesso con questo ulteriore tassello andiamo ad allungare la fascia pedonale e nel triennale dei lavori pubblici abbiamo la progettazione di questo altro pezzettino che unisce i due porti perché adesso sostanzialmente tra il porto pubblico e il porto privato non sono collegati via lago sono collegati ovviamente dalla strada a monte ecco questo quindi vuol dire che io posso comunque arrivare bypassare i due porti e comunque proseguire proprio nella parte a lago il bello sarebbe quindi secondo noi l'obiettivo è quello invece di unirli a lago e questo è una delle opere che dovremmo progettare per il futuro va detto una cosa che siccome si dice che l'erba vicina è sempre più verde è più verde la nostra invece in questo caso perché la gardesana occidentale ha rispettato di più la riva del lago di quella orientale perché basta andare a riva del garra facendo la sponda veronese e la fai tutta in riva al lago praticamente cioè c'è poco appunto San Vigilio qualche punto rispettato ma veramente poco quindi salutiamo ecco il messaggio era telegrafico la passeggiata a lago come procede punto di domanda precisiamo una cosa le chiedono è vero che si candida per il Parlamento no c'è qualcuno che dice giusto ancora la mia sindaca sono padenghino lavoro a Castelgofredo lei va in regione vero qua è più giusto insomma va in regione non sappiamo dipende mi sono candidata alle regionali chiaramente per entrare in regione bisogna essere votati quindi infatti è vero comunque va detto una cosa una volta là comunque dottoressa Vanzini lavori per fare una provincia Garda Alto Mantovano per cui le hanno già lanciato un'idea dato una un'idea una bella battaglia beh sì perché il Garda Unito che il Garda debba essere unito questa è una diciamo una cosa che io dico da tantissimi anni io avevo fatto una tesi di laurea proprio sul Garda Unito quindi sono convinta che questa cosa perché dal punto di vista turistico ma anche non solo dal punto di vista turistico è una realtà geografica che dovrebbe stare insieme purtroppo per ragioni a noi sconosciute è un Garda invece diviso frammentato perché ha le sponde alle tre province e due regioni e una provincia autonoma quindi dal punto di vista amministrativo è veramente molto separato però ad esempio adesso il progetto il progetto del collettore ha visto invece le due sponde dialogare e realizzare un progetto unico che sta insieme che sta insieme quindi credo che questo sia da riconoscere è stato davvero un passo avanti in un ragionamento collettivo del Garda unico che è sicuramente un obiettivo quello che io come i miei colleghi consideriamo un po' il nostro nonno di tutti noi dell'emittenza Tullio Ferro che sostiene addirittura che dovrebbe essere una regione addirittura neanche una provincia conosco il pensiero di Tullio Ferro è vero per cui appunto proprio sostiene questo allora per quanto riguarda i messaggi ah ecco non ha detto come risolvere il problema dell'abbandono dei rifiuti è un problema che non c'è solo a Padenga c'è dappertutto a Padenga non si vede neanche tantissimo sono altri comuni vicini dove si vede molto di più proprio questo lancio del sacchetto la soluzione dell'abbandono dei rifiuti non è che è una soluzione immediata e facile noi abbiamo messo anche delle telecamere in certi punti delle telecamere per cercare di individuare e infatti abbiamo individuato ad esempio nella zona lì del centro commerciale del Simpli abbiamo dato parecchie multe perché c'erano persone che abbandonavano il rifiuto nell'isola dedicata al centro e lì con le telecamere siamo riusciti a individuare 7-8 persone che hanno abbandonato le abbiamo multate questa è la strada però ovviamente bisogna cogliere in flagranza avere le telecamere su tutto il territorio cosa che è assolutamente non percorribile e poi ripeto agire sull'educazione perché se uno abbandona il rifiuto io torno a ribadire questo l'ho detto davvero l'ho ripetuto tantissime volte uno che ha il coraggio dico io di prendere un sacchetto dell'immondizia di casa sua e di buttarla in un fosso o in un prato o lungo il ciglio di una strada io ritengo che questa persona evidentemente ha qualche problema di comportamento civile sì anche perché so che il vandalismo perché a mio giudizio ormai rientra in quello è studiato addirittura in psichiatria per cui ha dei problemi evidentemente sì molto diffuso purtroppo qualsiasi comune qualsiasi sindaco si sente questa obiezione glielo assicuro per quanto riguarda il collettore lei ha parlato appunto delle sponde che hanno dialogato appunto Ato AGS regioni eccetera eccetera a che punto siamo più o meno adesso siamo dopo la firma di questo protocollo che è avvenuto a dicembre che ha visto coinvolti tutti gli attori adesso siamo praticamente nella fase della progettazione definitiva di questa opera la sponda veronese ha già bandito ha già fatto il bando per l'assegnazione della progettazione definitiva e la sponda bresciana ci sta arrivando ci sta arrivando appena ci sarà la progettazione ovviamente bisogna prima fare il bando per individuare i progettisti che realizzeranno questo progetto e poi chiaramente ci sarà l'appalto dei lavori nel frattempo è stato costruito il piano finanziario per sostenere l'opera dove sostanzialmente ci sono i 100 milioni del ministero e poi il resto per il momento è in tariffa però per riuscire a non incidere eccessivamente sulle tariffe chiaramente quindi sui cittadini l'idea è quella di sollecitare le due regioni in questo caso la regione Lombardia e il Veneto la regione Veneto affinché anche loro contribuiscono in qualche modo con dei fondi dei fondi propri o anche fondi ottenuti attraverso l'Unione Europea e un'altra cosa un altro pezzettino di questo di questo finanziamento di queste fonti di finanziamento e anche verrà dai comuni rivieraschi che hanno in modo unanime deciso di contribuire non sono in grado di dire in che misura con una quota dell'imposta di soggiorno quindi da parte dei comuni c'è anche l'impegno di dire rinunciamo a una manifestazione rinunciamo diciamo a un intervento magari turistico però riteniamo che il lago abbia la priorità che la salubrità dell'acqua del lago abbia la priorità e quindi una parte dell'imposto del gettito dell'imposto di soggiorno verrà destinato a finanziare l'opera poi ci sono due richieste che le fanno dagli ascoltatori quando si chiude il centro per le manifestazioni magari ne parliamo anche adesso di turismo e manifestazioni mettete dica ai vigili mettete il cartello prima della rotatoria scusi se sorrido poi ancora un'altra protesta per quanto riguarda un locale sul lago che quando apre fanno la selezione del parcheggio e fanno la coda sulla statale sull'ex statale adesso le statali non esistono più praticamente quindi queste sono due richieste che sono arrivate come richiesta padenghe lido autovelox ma allora venendo andando verso l'esigenza non c'è già se non mi sbaglio non c'è più è stato tolto io cosa sto rallentando non c'è adesso vabbè ok posso parlare di questo mi interessa molto perché questo è diciamo una decisione è un decreto che praticamente ha eliminato l'autovelox sulla provinciale nel tratto proprio di padenghe come sono stati eliminati altri autovelox in altri comuni parlo ad esempio di Lonato però io sono fermamente contraria a questa cosa e lo dico con molta franchezza perché noi non abbiamo mai utilizzato quelle risorse che oscillano tra i 250 mila euro e i 300 mila euro negli ultimi anni quindi non stiamo parlando di cifre astronomiche ma comunque molto significative per noi ricordo anche che sono risorse che non entrano nelle casse del comune di padenghe ma entrano nelle casse dell'unione dei comuni della Valtenesi quindi di 4 comuni 4 comuni turistici su quella strada in estate chi la frequenta sa bene quanta gente passa da quella strada e quanta necessità di sicurezza ci sia su quella strada ricordo anche che ci sono stati degli incidenti molto gravi anche mortali quindi diciamo che secondo noi quella risorsa era assolutamente indispensabile per poter rinforzare le forze di polizia locale che ricordo sono gestite dall'unione dei comuni della Valtenesi dove c'è l'obiettivo di fare un servizio H24 e che purtroppo senza queste risorse verrà meno perché evidentemente il potenziamento di questo corpo della polizia locale non potrà essere fatto come negli altri anni se non riusciamo ad avere queste risorse nel nostro bilancio non dimentichiamo se c'è della spiaggia da lì ecco quindi io ritengo che questa eliminazione di tutti questi rilevatori della velocità sono postazioni fisse quindi adesso l'unica strada è avere lì un agente della polizia locale perché altrimenti non può essere non può essere fatto il verbale ma comunque adesso l'apparecchiatura è stata tolta temporaneamente noi abbiamo contrastato questa decisione cercheremo di esprimere alla prefettura le nostre ragioni del perché riteniamo che invece debba esserci e speriamo che la prefettura ci ripensi ecco noi siamo convinti non abbiamo mai investito purtroppo dal punto di vista mediatico esce che noi facciamo cassa con le multe è vero sì quelli che pagano le multe che tra l'altro non è che tutti quelli che hanno le multe pagano purtroppo abbiamo anche dei mancati incassi che dobbiamo seguire negli anni perché l'incasso non è al 100% quindi secondo noi è una risorsa importante lei le chiedono tra i tanti messaggi che ci sono se ha una data più o meno da segnalare su quando si finirà la passeggiata fino a Porto Dusano il Porto Dusano non è Padenge ma è Manerba ecco il collegamento tra Moniga e Manerba è un collegamento molto difficile perché è scogliera per cui penso ci vorranno anni anni infatti allora siamo segnalano anche furti dice Fabio un sindaco poi tra l'altro in gamba con tutte quante le qualità insomma e poi le dicono anche cantieri abbandonati da anni ci sono bestie insetti che non sono una bella cosa sì è vero ci sono purtroppo dei cantieri privati che sono abbandonati perché il privato non ha completato l'intervento noi li teniamo d'occhio li sollecitiamo non più tardi di ieri ho proprio fatto una chiamata una telefonata diretta al proprietario dell'area che mi ha promesso che entro settimana verificheremo e se non ci sarà l'intervento auspicato prenderà la multa faremo un verbale siamo in chiusura ringraziamo tantissimo Patrizia Vanzini sindaca di Padenga sul Garda grazie arrivederci avviso importante a tutti gli automobilisti in un mercato libero scegli liberamente il ristorante l'albergo il parrucchiere il fornaio anche la religione grazie Grazie.